E l'ultimo servizio di questa seconda puntata del 2018 di Motor News lo dedichiamo al nostro amorino delle moto con Aurora Bobone che ci illustra le novità di questa Ducati Panigale che prende tanta tecnologia dalla MotoGP. Si chiama Panigale V4 e segna un nuovo e importante capitolo nella storia Ducati, una sinfonia di prestazioni ed emozioni tutta italiana. La Panigale V4 è la prima moto Ducati prodotta in serie a essere equipaggiata con un motore 4 cilindri, strettamente derivato dal Desmo 16 della MotoGP. La Panigale V4 sostituisce l'iconica 1299 Panigale e lo fa aumentandone prestazioni e facilità di guida per offrire ad ogni pilota, dal meno esperto al top rider, grandi emozioni e divertimento. Sviluppata in stretta collaborazione con Ducati Corse, sfrutta know-how e tecnologie del mondo racing per essere la moto stradale più vicina in assoluto ad una MotoGP. La nuova Panigale V4 è design ridefinito, nuovo motore, ciclistica all'avanguardia ed elettronica innovativa. Un concentrato di tecnologie, stile e performance Ducati. Il motore Ducati Desmo 16 stradale nasce direttamente dal cuore pulsante della Ducati Desmo 16 GP, per trasformare potenza ed eccellenza in puro piacere da godere su strada ed in pista. Il nuovo telaio front frame lasciato a vista diventa parte integrante della moto, caratterizzandone una vestizione attillata, quasi cucita su misura. Essenzialità ed integrazione hanno esperato i designer per la carena con soluzione a doppio layer, una parte principale esterna, di ridotta estensione longitudinale, e una in secondo piano, con funzione di estrattore dell'aria dal radiatore. La plasticità del serbatoio a diamante, marchio di fabbrica in casa Ducati, asseconda il pilota in tutte le fasi della guida in pista. Nel posteriore, il codino della versione monoposto è in un unico pezzo, per sottolineare il carattere pronto pista della moto. L'equipaggiamento di serie della nuova Panigale V4 comprende Ducati Power Launch, Ducati Quick Shift Up-Down Evo, proiettore full LED con datum running light, ammortizzatore di sterzo sax, selezione rapida dei controlli, spegnimento automatico e indicatori di direzione. La Panigale V4 è nel listino Ducati al prezzo di 22.590€. In questo modo finiamo la puntata numero 2, la seconda del 2018 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete e a questo orario. Grazie e a tutti.